Gianna ha fatto la partita, il nove l'ha segnato ed è finita 2-2. Sì, sì, allora questa è l'analisi, ci sta. L'analisi dal mio punto di vista è che questa squadra deve essere orgogliosa di quello che ha fatto oggi e l'ho detto in maniera chiara a fine partita ai ragazzi. Al tempo stesso, come ho detto, a fine primo tempo, deve anche prevalere un grande sentimento di arrabbiatura perché dal mio punto di vista abbiamo concesso nulla dal punto di vista di palle-gole, però purtroppo abbiamo preso due gol su due situazioni di cross che dobbiamo assolutamente invertire la rotta e non possiamo prendere gol così facilmente, quindi deve prevalere un senso di arrabbiatura positiva, sicuramente, perché comunque è una partita dove credo che la Gianna meritasse anche qualcosa in più del pareggio e abbiamo rischiato addirittura di perderla e questo per me non è detto che i ragazzi devono non accettarlo perché ha lavorato forte durante la settimana oltre le difficoltà e quindi questi due sentimenti devono accompagnarci per preparare al meglio le prossime partite. L'arrabbiatura che potrà tornare utile a martedì contro la Caldiero, anche se effettivamente, come dicevi tu, oltre le difficoltà perché ci sono un po' di problemi. Sì, sì, assolutamente. Deve essere un'arrabbiatura ma che non tanto ci deve spingere a preparare al meglio la prossima partita ma ci deve spingere a capire che ci serve ancora uno step, ci servono degli step per poi fare meglio in questo campionato perché io ho pochissimo da rimproverare dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'impegno ai ragazzi oggi, ripeto, sono orgogliosi di loro e di quello che hanno fatto e come hai detto tu, nelle difficoltà. Le difficoltà in questo momento ci sono, ci mancano due attaccanti, non ne abbiamo altri, ci mancano dei centrocampisti come Pinto e quindi è normale che la coperta è un po' corta per una realtà come la nostra, però non deve essere un alibi e dobbiamo assolutamente trovare altre risorse, dobbiamo assolutamente avere le carte in regola per dar fastidio a tutti e per metterci nelle condizioni di portarvi a punti.